Questo programma è offerto da E' stata una giornata difficile quella che ha visto ieri presso Palazzo Butera a Bagheria la protesta da parte di alcuni disoccupati ed ex temporeri che sono saliti fin sopra il tetto. Palazzo Butera è da poco diventata la sede dell'amministrazione comunale. Due le proteste distinte ma legate dalle precarie condizioni lavorative a Bagheria. La prima protesta ha riguardato un gruppo di giovani disoccupati che si è incatenato ai cancelli del Palazzo Comunale. La loro richiesta è un posto di lavoro che, dicono, è se gli è stato promesso dall'attuale sindaco Patrizio V. L'altra protesta è quella ormai conosciuta degli ex operai temporeri che dopo aver occupato per tre giorni la chiesa delle anime sante sono entrati a Palazzo Butera e sono saliti sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco che, come da prassi, hanno situato alcuni materassi sotto il tetto. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha avviato una selezione interna al personale in dotazione al comune al fine di individuare 24 unità da destinare al servizio della raccolta dei rifiuti. Intorno alle 12.30 è arrivato il sindaco Patrizio V che ha discusso duramente con i protestanti. La legge non mi dà nessuna via giuridica legale per poter procedere al vostro ulteriore utilizzo e questo è purtroppo l'inizio di un processo che mi porterà a creare le condizioni per avere un paese veramente pulito, ha detto il sindaco V. Andremo verso la formazione di una spa interamente partecipata dal comune che procederà alla selezione con evidenza pubblica del personale che dovrà lavorare per tenere pulita bagheria. I temporali presenteranno i loro titoli legittimi di cui dovremmo tenere conto nel bando di selezione e cioè l'avere maturato quasi sette anni nel servizio, ma altro non possiamo promettere. Dopo tutto questo caos finalmente i protestanti sono scesi dal tetto e tutto è ritornato alla normalità. La squadra si ricompone. Ieri il sindaco di Villa Abate, Francesco Cerrito, ha firmato la determina per la nomina vice sindaco del dottor Francesco Giglio. Così la giunta comunale torna a risplendere dopo alcune settimane dalle dimensioni dello stesso Giglio. Le rinate forze politiche, dopo essersi confrontate ad esso, hanno fissato degli obiettivi comuni puntando ai fatti e alle azioni concrete, parlando con la gente. Si punterà alla diffusione della cultura e alla legalità, sensibilizzando i giovani. Aumenteranno gli interventi a sostegno del recupero dell'edilizia scolastica e segherà in progetto per costruire una nuova scuola a Villa Abate. Aumenterà il livello di pulizia del paese e più in genere il decoro urbano, introducendo il rito porta a porta e anche in via sperimentale la raccolta differenziata. Si cercherà di realizzare entro la fine dell'anno un parco giochi e si cercherà di continuare l'impegno per la riapertura al Teatro delle Palme. Una svolta dunque dopo le turbulenze avute in maggioranza. Il primo cittadino ha poi lanciato un appello alle minoranze per cercare di collaborare sugli obiettivi prefissati da realizzare entro il 31-12-2014 per il bene del paese. Questa è una storia di quelle tristi di un'Italia che fornisce sempre meno servizi ai propri cittadini. Questa è la storia di Valentina D'Amico, una ragazzina che da oltre un anno è costretta a vivere su una sedia a rotelle, privandosi così del suo desiderio più grande, quello di andare a scuola. Questo perché il Comune non le fornisce il servizio di trasporto disabili. Valentina abita a Pianogeli, nella frazione di San Martino delle Scale, ed è costretta a non frequentare da oltre un anno la scuola Mario D'Aleo perché il Comune non fornisce il servizio di trasporto alla ragazza. A difesa della giovane si è schierato l'ex vicepresidente del Consiglio di San Martino delle Scale, Nicola Arduino, che ha espresso il proprio dissenso per l'intera vicenda, data già la delicata situazione di Valentina, che ancora deve imparare a pieno a convivere con la sua nuova condizione. Ora la famiglia, dunque, lancia un appello al sindaco di Monreale, Piero Capizzi, perché Valentina, già da quest'anno, possa frequentare la scuola e tornare così a socializzare con i suoi coetanei. Lo stesso sindaco ha immediatamente risposto all'appello dei genitori della ragazzina, dimostrandosi disponibile a risolvere la delicata situazione. Il Sexy Sexy Danza In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io sto andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Cosa hanno in comune una stalla ed un campo da golf? Forse l'erba che gli animali brucano per nutrirsi, ma sarebbe troppo scontato. E allora perché non fare di tutto un campo da golf o una stalla? E' questo quello che ha pensato e realizzato un pastore cefaludese di 50 anni. Peccato però che abbia fatto tutto ciò in maniera illegale. Il curioso fatto è accaduto a Gibilmanna, piccolo centro nel Palermitano, dove una struttura che avrebbe dovuto ospitare un campo da golf è stata abbandonata e in seguito trasformata in una vera e propria stalla. L'area interessata si trova incontrata a Obo e al suo interno sono state trovate una trentina di mucche, oltre a tutti gli arnesi del fattore abusivo. Dunque è stata posta sotto sequestro dalla polizia di stato. Sul posto è intervenuto anche il veterinario del distretto di Cefalù per conoscere la tracciabilità dei marchi auricolari e dei microchip di alcuni animali rinvenuti nella struttura. Si è accertato che questi appartengono ad un allevatore cefaludese 50enne, il cui padre poi deceduto, peraltro in passato aveva usato a pascolo l'enorme terreno circostante. L'area, già nel 2010, era stata sequestrata per motivi affini e quindi adesso si spera che la situazione venga risolta definitivamente una volta per tutte. Ennesimo tentativo di rapina in città ai danni di una farmacia. È successo mercoledì scorso quando un uomo armato di taglierino si è introdotto nella farmacia di Via Enrico Toti a Palermo. Il pregiudicato in questione, Giuseppe Battaglia, 54 anni, è stato però messo in fuga dagli stessi clienti della farmacia, che hanno urlato in preda al terrore non appena hanno capito le intenzioni dell'uomo. Battaglia, così, è scappato via a piedi lasciando parcheggiato davanti alla farmacia il suo motociclo con cui era poco prima arrivato. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ascoltato i testimoni che hanno fornito la descrizione dei tratti somatici e degli effetti personali indossati dall'uomo in fuga. Mentre i controlli effettuati sul motoveicolo hanno permesso di risedire l'intestatario, che è risultato essere già noto alle forze dell'ordine. Così è cominciata da parte dei poliziotti una ricerca per le vie del villaggio Santa Rosalia, dove solo qualche ora dopo il malvivente è stato raggiunto dalle forze dell'ordine, che immediatamente hanno condotto l'uomo presso il carcere dell'Ucciardone. Alleanza Assicurazioni seleziona client assistant con il ruolo di consulente assicurativo finanziario per il territorio di Ficarazzi, di età compressa fra i 23 e i 40 anni, dotati di buona sensibilità commerciale e di ottime capacità relazionali. La società sottolinea che il possesso di questi requisiti, di determinazione e impegno singolari, potrebbero essere la chiave per aprire la porta alla stabilità lavorativa, con assunzione a tempo indeterminato. Gli interessati possono inviare la loro candidatura a palermo3.jobchiocciolalleanza.it, entro e non oltre venerdì 19 settembre. Solo i più idonei saranno selezionati per un percorso di formazione aziendale, la quale si svolgerà presso la Casa Comunale di Ficarazzi, in accordo con il primo cittadino, Avvocato Paolo Francesco Martorana, che intende mettere a disposizione la struttura comunale per circostanze di pubblica utilità come quella della formazione professionale. Grazie a tutti! In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli, che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei, o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazioni, con serate canori per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152, oppure chiamaci a 329-72-74-388, oppure 347-73-13-852. Match Music! E che il divertimento abbia inizio! Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5x1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare Star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Tutte le domeniche ti aspettiamo al Chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire a questa occasione e vieni a trovarci al Chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo! Anche l'artista bagherese Carmelo Maria Carollo parteciperà al grande evento di solidarietà dal titolo La Notte del Cuore che si svolgerà presso il Baio in Gardia a Fontanalza, Trapani, domenica 31 a partire dalle ore 21.30. La serata avrà come scopo la raccolta fondi per la realizzazione di una nave ospedale. Il designer Carollo sarà presente con la creazione di gioielli realizzati appositamente per impreziosire i vestiti d'alta moda dello stilista Giovanni Canistrà. Nel corso della serata, inoltre, uno dei pezzi dell'architetto Carollo verrà messo all'asta e il rigavato verrà anche il suo destinato in beneficenza. Continua l'estate ficarazzese che prevede un fine settimana in fiera. Infatti, sabato 30 e domenica 31 agosto, è in programma la mostra dell'artigianato con il patrocino del comune di Ficarazzi. La mostra, allestita dalla associazione culturale Officine Trinacria, ha in programma particolari lavorazioni artigianali e spettacoli musicali per la prima mostra di hobbistiche e di artigianato locale. Tutto avrà luogo in piazza Giovanni Paolo II e inizierà a partire dalle ore 10. Durante la fiera, i visitatori potranno assistere a creazioni artigianali dal vivo, realizzate dai maestri artigianali locali. A caratterizzare la serata sarà la musica country The Calling Nine, che si esiberanno alle ore 21 di sabato 30 agosto. Domenica 31, la fiera dell'artigianato ospiterà spettacoli serali di rap e music e di ballo e si chiuderà con la premiazione delle creazioni artigianali migliori. Questa sera, a Campofelice di Roccella, alle ore 21 in piazza Garibaldi, insiterà il Festival Canoro per Bambini Stelle per una Notte. L'evento fa parte del programma Estate a Campofelice e sarà curato da Geluca in Zerra, con ingresso gratuito. Tutti pronti dunque ad emozionarsi ascoltando le dolci voci dei bambini che si cimenteranno in questo festival, cantando le canzoni dei grandi della musica. Che siete genitori, parenti e nonne, l'importante sarà divertirsi ed applaudire e sostenere tutti i piccoli concorrenti che si metteranno alla prova. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata da tutto lo staff di IlMeteo.it Previsioni per venerdì 29 agosto 2014 Rimane ancora molto stabile il tempo su tutto il territorio italiano grazie alla forte influenza dell'anticiclone delle Azzorre. Al nord inizialmente cieli serini o poco nuvolosi su tutti i settori con qualche velatura in più solamente sulle Alpi occidentali. Progressivo aumento dell'instabilità nel corso del pomeriggio con precipitazioni sui rilievi alpini e prealpini, sempre occidentali con fenomeni che potranno interessare localmente anche le pianure piemontesi, sempre tanto sole sul resto del territorio. Al centro soleggiato su tutte le regioni con nuvolosità molto scarso o del tutto assente, sempre sereno anche sulla Sardegna, possibili disturbi pomeridiani solamente, sulle aree interne abruzzesi dove non si escludono dei piovaschi, clima gradevolmente estivo ovunque, il sud e il sud avrà un tempo che sarà ancora una volta piuttosto stabile per tutto l'arco della giornata con cieli pressoché sereni su tutti i settori e clima caldo, sempre deboli i venti o localmente moderati sul basso Adriatico e sul mar Ionio. Prevalentemente stazionarie o in ulteriore lieve aumento i valori termici con temperature più elevate al centro e al sud, massime comprese tra i 23 e i 34 gradi, mentre le minime oscilleranno tra i 14 e i 21 gradi. Amici, l'aggiornamento termina qui. La situazione non subisce grandi variazioni sul nostro paese con un ampio solleggiamento garantito dalla persistente presenza dell'anticiclone delle Azzorre. Seguiteci sempre anche su tutte le nostre applicazioni per cellulari. Un caro saluto da tutti noi di ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 29 agosto. Si ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa. Il nome Giovanni deriva dall'ebraico e significa dono di Dio. Dice il proverbio melanzane e zucchine piatti da regine. Sono nati oggi Ingrid Bergman, Michael Jackson, Ricky Memphis. Il 29 agosto 1862 l'esercito regio ferma la marcia dei Garibaldini sulla Spromonte. Garibaldi viene ferito ad una gamba. Il 29 agosto 1966 all'insaputa del pubblico i Beatles tennero il loro ultimo concerto a San Francisco. Vollero una macchina fotografica sul palco e registrarono l'audio per documentare il valore che l'esibizione avrebbe assunto in seguito. Infine il 28 agosto 1994 il principe giapponese Naruhito inaugura l'aeroporto di Kansai, uno dei più grandi del mondo progettato dall'architetto italiano Renzo Piano. Cartesio ha detto Dividi ogni difficoltà in tante piccole parti quanto è possibile e risolvila. Arrivederci da Barbanera dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 29 agosto. Ariete, sebbene l'umore non sia al massimo, sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenta di generare dubbi nelle vostre certezze. Sfoderando la vostra proverbiale grinta, riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. Toro, non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena alla giornata, vi vedrà impegnati a smaltire una serie di inconvense, noiose ma necessarie. Saprete destreggiarvi abilmente tra i vari ambienti, professionali e nonna, mediando al meglio. Gemelli, con la luna per amica, ringalluzzita da venere, è la serata ideale per partecipare ad una festa da sballo, con tanti amici e bella gente intorno. Buoni rapporti con l'ambiente, anche se in famiglia la disarmonia del sole smorza un po' l'euforia. Cancro, in contrasto con urano anche lui ostile, la luna in bilancia insinua un senso di disagio e piccole ansie. In comprensione i contrasti in famiglia, per non commettere errori irreparabili, non prendete decisioni avventate in nessun campo. Leone, con la luna che illumina venere nel vostro segno, ve la spassate proprio alla grande. Gioia di vivere grandi preparativi per un evento importante. Forniti il giusto mix di simpatia ed eleganza, sex appeal e fierezza, farete davvero furono. Vergine, giornata complessa oggi, che ve la vedete con l'opposizione tra la razionalità del sole nel vostro segno e le strampalate suggestioni di Nettuno. Il vostro umore oggi sarà piuttosto influenzabile, l'ambiente intorno condiziona musi e sorrisi. Bilancia, sostenuta da venere ma bersagliata da urano, la luna oggi vi manda in tilt. Pensando di fare la cosa giusta potreste commettere passi falsi. In ambito sentimentale dovrete assolutamente evitare colpe di testa o ve ne pentirete amaramente. Scorpione, se desiderate apportare modifiche alla vostra attività, potrete contare su colloqui chiarificatori che determineranno le prossime scelte. In una questione di famiglia saprete riconoscere che a volte anche voi sbagliate, non siete perfetti. Sagittario, con il sostegno di venere il sestile lunare, riequilibra le emozioni e vi mette subito in pista. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si risolve a vostro favore. Capricorno ha un intoppo emotivo e prevedibile a causa della disarmonia lunare. Rischiate di perdere resistenza e di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. Armatevi di buona volontà. Se affrontati con calma, i problemi si risolveranno senza lasciare traccia. Acquario, buon umore e vitalità sconfiggono ogni sensazione di malessere. Fondamentale trovare valori autentici per fare riferimento quando vi sentite soli. Grazie alle moderne tecnologie, sentirsi, vedersi e parlarsi con chi è lontano non è più un problema. Pesci, giornata strana, segnata dal confronto tra Nettuno, ipersensibile e intuitivo nel nostro segno, e il Sole, razionale e ipercritico all'opposizione. Solo la riflessione può aiutarvi. Mettendo tutto in discussione, trovate soluzioni soddisfacenti.